No, per fortuna no. Buongiorno a tutti, caro sindaco Giorgio Gori, autorità, caro ministro, fatemi innanzitutto ringraziare in modo particolare Alberto Bombassei perché ho avuto l'opportunità di fare una rapidissima visita a Brembo, Brembo di cui avevo avuto innumerevoli occasioni di parlare soprattutto nella mia esperienza di ministro degli esteri perché è uno dei marchi italiani più affermati in Europa e nel mondo, ma al di là di Brembo si vede nel lavoro, nell'ambiente che ci circonda l'impronta anche dell'esperienza di Alberto, anche delle sue passioni che sono esposte nello stabilimento, le sue passioni per le auto e devo dire che mi ha in modo particolare colpito anche quello che ha detto Bombassei sulla sua esperienza parlamentare, parole esemplari per modestia e per rispetto delle istituzioni dette da un grande imprenditore che ha accettato anche la sfida di stare nei banchi del Parlamento. Quindi grazie, grazie per questa opportunità, siamo ovviamente in un territorio simbolico, emblematico di tante eccellenze italiane, della qualità dell'impresa, della capacità di innovazione, della qualità del lavoro, delle capacità di esportazione, del legame tra impresa e territorio, quanti simboli circondano Bergano, Chilometro Rosso, il luogo in cui ci troviamo. Credo che dobbiamo avere la consapevolezza che questa energia positiva oggi può finalmente dispiegarsi in un contesto leggermente più favorevole e forse notevolmente più favorevole, dipende da noi. perché di una cosa credo dobbiamo essere almeno certi e cioè che siamo fuori dalla più grave crisi economica che ci abbia colpito dal dopoguerra. Siamo tornati a crescere, non mi appassiona sinceramente la discussione sul fanalino di coda. Ieri leggevo sul Financial Times tutta una storia sul Regno Unito fanalino di coda che veniva rimproverato perché anche al Regno Unito capita di avere una crescita dell'1.5 e peraltro in discesa rispetto a anni precedenti. È vero che abbiamo l'1.5 e la Francia all'1.6. Vedremo alla fine dell'anno quali saranno i risultati. Devo dire che se ci fosse un campionato europeo di salto in alto dal punto di vista dei tassi di crescita l'Italia l'avrebbe vinto nell'ultimo periodo perché se guardiamo alle previsioni delle stesse istituzioni di alcuni mesi fa avevamo previsioni per quest'anno dello 0,8 e quindi abbiamo oggi delle previsioni che sono quasi doppie di quelle che erano alcuni mesi fa. Abbiamo un contesto quindi in cui l'energia che si dispiega e che si vede in questo territorio e in altri territori trainanti dell'economia italiana può svilupparsi. Il merito di questo risultato è in primo luogo del lavoro, delle imprese, dei nostri territori. Io sono convinto che questa rivendicazione di orgoglio del fatto che se siamo fuori da questa crisi straordinaria lo dobbiamo innanzitutto prima ancora che alle misure decise dal Parlamento, dai governi, alla capacità di resilienza, si diceva prima, e di innovazione del mondo del lavoro e delle imprese è una rivendicazione importante non solo perché è un fatto di orgoglio da parte di chi è stato protagonista di questa ripresa ma perché incrementa il capitale fondamentale di cui avremo bisogno nei prossimi mesi che è un capitale di fiducia. Senza fiducia anche i passi avanti straordinari che pure abbiamo fatto, anche questo contesto più favorevole, anche i luoghi simbolichi dell'eccellenza come quelli in cui ci troviamo faranno fatica a raggiungere gli obiettivi che ci dobbiamo porre. Quindi il ritorno alla crescita è innanzitutto merito del lavoro, delle famiglie, delle imprese, è particolarmente evidente in alcuni risultati nel territorio in cui ci troviamo, prima ricordato quel 45% di aumento delle esportazioni tra il 2009 e il 2016, ricordiamoci che nello stesso intervallo di tempo le esportazioni medie nell'Unione Europea sono cresciute del 21%, 21% in Europa, 45% nella provincia di Bergamo, più del doppio come crescita delle esportazioni. Venivano ricordati i dati dell'occupazione che non sono meno importanti e anzi sono per il futuro straordinariamente importanti. Questo ritorno alla crescita non va sprecato, è fatto anche di scelte di responsabilità di bilancio per il nostro Paese. Un altro dato che non dobbiamo dimenticare è che noi siamo passati nel giro di pochi anni da un deficit in rapporto al prodotto interno lordo del 5,3% a un deficit attorno al 2% e chiunque amministri un comune, un'impresa, una istituzione sa cosa vuol dire passare nel giro di pochissimi anni da un deficit del 5,3% a un deficit del 2%. E questi sforzi, questi risultati non vanno dilapidati. Noi abbiamo presentato e proposto al Parlamento è una legge di bilancio snella e mirata, concentrata su alcuni obiettivi. È una legge che certamente può essere migliorata, ma che non può trasformarsi in una nuvola di segnali di fumo rivolti a questo o a quella categoria. Perché questo non aiuterebbe il percorso di cui oggi abbiamo bisogno. A questa spinta a moltiplicare i segnali piuttosto che a concentrare le misure su alcuni fondamentali assi che Governo e Parlamento insieme possono e devono indicare a questa spinta noi dobbiamo opporre il motto della Brembo, frenare per correre. Cioè a Roma si dice diamoci una calmata e questo ci consente sicuramente di aiutare la nostra economia a correre più rapidamente. L'economia italiana ha percorso una strada molto accidentata, è andata indietro, come veniva prima ricordato. È stata ferma, lungo. Si è finalmente rimessa in moto e adesso questa macchina va accompagnata, accudita, facilitata, rassicurata da parte delle istituzioni, delle categorie, delle associazioni di impresa. Non va certamente dilapidata e non va neanche strozzata in regole come quelle a cui faceva prima riferimento Moltrasi. La sfida che abbiamo davanti, io credo, e che il vostro Festival propone nella sua difficoltà, è come quello che abbiamo alle nostre spalle, quello che abbiamo realizzato, quello che ci circonda, quello che ha contribuito a rimettere il moto il nostro Paese, può reggere alla sfida dei prossimi anni, dei prossimi decenni, alla sfida della cosiddetta quarta rivoluzione industriale. Cioè in che modo questo capitale italiano di industria manifatturiera, di capacità di innovazione può reggere a quello che l'innovazione tecnologica propone per l'universo di sviluppo del nostro sistema di imprese. E come evitare in modo particolare che nel corso degli anni si accentui una divaricazione tra da un lato una sorta di elite digitale, cosmopolita, senza terra, senza legami con il territorio e dall'altra parte un insieme di lavoratori sottopagati, sottoqualificati, magari con forti radici territoriali, ma con un sentimento di frustrazione che diventa sempre più una sfida per le istituzioni e per le imprese. Come colmare questo divario? Come investire nel capitale umano per ridurre questi rischi? Come portare la straordinaria capacità italiana di collegare territori, imprese, capacità di lavoro e innovazione sul piano globale? Come diffonderla? Perché non bastano alcuni grandi straordinari esempi trainanti se non si diffonde questa cultura d'impresa, questa capacità di innovazione, questa valorizzazione del capitale umano. Ecco il lavoro che il governo sta cercando di contribuire a fare, che va sotto il titolo di impresa 4.0, impresa perché riguarda anche i servizi, non solo il mondo delle industrie, ha come obiettivo fondamentale esattamente questo, la promozione del capitale umano, le politiche attive del lavoro, l'alternanza scuola-lavoro, temi da tempo frequentati in questa iniziativa, da Dario Di Vico che di questa iniziativa è il direttore, non so come si dice, l'animatore, diciamo così, come vuoi. Sono al centro anche dell'impegno del governo. Il pacchetto impresa 4.0, oltre a prevedere diverse proroghe, le proroghe dell'iperammortamento, del superammortamento, della nuova Sabatini, prevede alcune misure che io credo siano dei segni molto rilevanti da questo punto di vista, come il credito d'imposta per le spese, per la formazione per l'industria 4.0, che è esattamente una degli incentivi e delle modalità per andare nella direzione che dicevo prima, come gli investimenti argomenti sugli istituti tecnici superiori, come l'istituzione di un fondo per il cosiddetto capitale immateriale, per alimentare competitività, produttività, le cose che facciamo qui intorno, le cose che vediamo qui intorno a chilometro rosso. quindi scommettere sul futuro, sul fatto cioè che l'evoluzione alla quale andiamo, che abbiamo di fronte, l'evoluzione del digitale, dei big data, della robotica, dell'intelligenza artificiale, quello che cambierà il nostro modo di fare impresa nei prossimi anni non è un destino negativo che divide le nostre società e il nostro mondo in due, può essere un destino in cui, se rafforziamo in generale la qualità del nostro capitale umano, si arriva mantenendo quegli elementi di coesione che sono stati alla base del miracolo dell'industria italiana negli ultimi decenni. perché se il miracolo c'è stato, c'è stato grazie alla capacità di innovazione degli imprenditori, alla capacità di lavoro delle nostre maestranze e alla coesione del nostro sistema, che vuol dire relazioni tra imprese e territorio, relazioni tra lavoro e capitale. Occorre ricuscire gli strappi, le lacerazioni che abbiamo attraversato, non certo aprirne di nuovi. E questo vale anche per la sacrosanta spinta verso una maggiore autonomia che si vive in diverse regioni, in diversi territori, che è una rivendicazione di efficienza, non di egoismo, che deve essere una rivendicazione di protagonismo nella solidarietà, non di separazione. Il legame con il territorio è una parte essenziale di questo messaggio, del messaggio della coesione. Del resto, da tempo, in Italia, le città, i sistemi territoriali, sono un punto di riferimento di innovazione, di cultura, di proiezione del nostro Paese nel mondo. Io dico spesso che il soft power non l'ha inventato un politologo americano una dozzina di anni fa, il soft power l'hanno inventato alcune città italiane, Venezia, Firenze, cioè le città che hanno proiettato l'immagine e l'economia del nostro Paese e dei loro territori nel mondo. E questo messaggio è più che mai vivo oggi. Ho avuto l'onore qualche giorno fa di inaugurare l'anno accademico della Unicam, l'Università di Camerino, un piccolo comune di 6.000 abitanti, credo, colpito dal terremoto, con un'università che ha 7.000 studenti, una parte consistente dei quali stranieri, un livello di eccellenza su materie di grandissimo spessore innovativo straordinario. Questa è l'Italia, è l'Italia di Unicam, è l'Italia dei piccoli borghi con la loro cultura, la loro tradizione, che però accettano la sfida dell'innovazione e del futuro. Una sfida che potrà avvalersi nei prossimi anni di un ambiente europeo caratterizzato da una crescita positiva. Anche di questo dobbiamo tener conto per alimentare quel capitale di fiducia di cui abbiamo bisogno. Le proiezioni sull'Eurozona sono proiezioni di una crescita stabile e positiva. E siccome l'Eurozona è una delle zone più affidabili del mondo, dal punto di vista della stabilità, questo farà sì che sarà una zona molto rilevante dal punto di vista degli investimenti, dello sviluppo nei prossimi anni. Certo, non mancano fattori di imprevedibilità dal punto di vista geopolitico nella nostra regione, nel Mediterraneo, nel rapporto con l'Africa. Non voglio negare la presenza di queste incognite. Non voglio negare i rischi di riaffiorare di sovranismi, di piccole patrie, di nostalgie per piccoli o grandi imperi di secoli passati. Ma anche a questo noi possiamo rispondere, dando il nostro contributo. Perché oggi fare comunità, alimentare la coesione, è un contributo, è un antidoto in qualche modo a queste spinte, a questi rischi, a questa imprevedibilità geopolitica a cui tutti possiamo collaborare. Nei nostri territori, nelle nostre comunità. E quindi credo che le nostre imprese, le nostre città, Bergamo, i nostri sistemi territoriali, hanno le carte in regola per crescere, per competere, per avere fiducia nel prossimo futuro. Io credo davvero che questa operosa stabilità, questa sicurezza tranquilla, questo gioco di squadra, non so se sia catalitico, ma comunque il gioco di squadra che si vede in questi luoghi di eccellenza, è assolutamente cruciale. E' cruciale per questo territorio, ma soprattutto è un esempio per l'Italia intera, per un messaggio che porterà tutti a crescere insieme. Abbiamo fiducia e lavoriamo insieme in questa direzione. Grazie.